E' stato purtroppo colpito il centro di ricerca nucleare di Kharkiv in Ucraina. La Russia continua a bombardare e a creare panico oltre che danni e il Kyrgyz Independent ha informato tutti quanti del fatto proprio che il reattore nucleare è stato colpito, si tratta di un reattore nucleare di un laboratorio di ricerca ubicato presente a Kharkiv in Ucraina ed è stato bombardato da parte proprio dei russi. Adesso però è impossibile andare a determinare o meglio a valutare l'entità esatta del danno riportato. Perché? Punto di domanda, perché le ostilità continuano nella zona dell'installazione nucleare. Era già stato colpito nei primi di marzo, oggi siamo al 26 e si occupa questo impianto di produrre radioisotopi per scopi industriali ma anche medici. I bombardamenti nei primi di marzo non avevano dato problemi a livello di razioni nel sito dove si trova. Speriamo insomma che riusciremo a capire un po' di più e speriamo che non si verificano radiazioni in zona e o nelle zone limitrure. Il video termina qua, da Leandro è tutto, da Leandro è italiano.